Un saluto affettuoso a tutta la grande famiglia che segue i video sul canale YouTube, sulla pagina Facebook e Instagram. Questa mattina giornata di riposo dopo il lungo viaggio a Roma e soprattutto il grandissimo ritardo dei treni in questi due giorni. Sono nel Parco Nazionale della Sila e ci stiamo così un po' riposando e godendo la bellissima natura e poi pomeriggio alle 19 nella collegiata di Simeri la Santa Messa nel giorno di Pentecoste. Grazie a tutti, grazie alla grande famiglia romana che mi ha aspettato sotto il sole in via della conciliazione per tre ore, ma grazie davvero per tutto il vostro affetto. Qui ci sono tre delle persone più care nella mia vita. Abbiamo Antonio. Antonio ormai lo conoscete perché è l'autista. E' amico soprattutto. Eh sì. Antonio, fatti vedere. fatti vicino. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Poi abbiamo la concetta e poi abbiamo il Mauro che ha condiviso questi due giorni romani con me e quindi come vedete io sto sempre con loro. Avvicinatevi ragazzi. Io sto sempre con loro e loro stanno sempre con me. Adesso andiamo a mangiare qualcosina, poi scendiamo e ci prepariamo per la Santa Messa. Ieri è stato bellissimo poter celebrare Messa con sua eminenza il Cardinale Angelo Comastri che, come sapete, ha firmato la prefazione al mio libro, Lo sguardo di Gesù, che è ancora in vetta alle classifiche ed è in ristampa. Presto delle novità, presto delle altre date, anche al nord e quindi grazie, grazie di cuore a tutti. Io vi mando come sempre un bacio da fratello, amico, padre. Ricordiamoci sempre nella preghiera. Vi voglio un mondo di bene.